Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Vediamo la situazione del traffico e della mobilità in questo martedì mattina 3 ottobre. Cominciamo come di consueto con l'autostrada in a 11 code a tratti per traffico tra Pistoria e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze per Etola. In a 12 un chilometro di code a tratti verso nord, quindi verso Genova, tra nodo a 12 raccordo Lucca-Viariggio e Versilia. In Fipili, code a tratti verso Livorno, tra Ginestra e Montelupo, in carreggiato opposta tra Ginestra e Firenze Scandicci. Per viabilità esterna che non riceve inoltre coda, in uscita a Santa Croce per chi proviene da Firenze. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, possibili disagi per incidente segnalato su Viale Lincoln. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana in Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.